Benvenuti ragazzi e bentornati qui sul mio canale con questa reaction quest'oggi Palermo-Cittadella, occasione importantissima per il Palermo dato che vincendo tornerebbe ad essere prima da sola torna agli esami, torna anche la curva nord superiore non sarà però una partita semplice secondo me perché il Cittadella quest'anno in trasferta ha vinto partite abbastanza difficili comunque confido nei miei ragazzi, confido nel mister Tedino speriamo sia una bella partita e soprattutto speriamo di vincerla buona visione dai che si comincia, bella palla embalo, qualcuno in mezzo embalo ti prego va dentro, non ci può arrivare nessuno bella così, guardalo, guardalo guardalo di là ciò che ci prova dai 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 così occhio per i contropini del Cittadella dai item che mi mancavi sulla fascia ci mancavi item dai ciò che mi butta nel mezzo qualcuno nessun occhio non ci arriva vuoi rispogli al volo va bene, va bene calmo punizione a Cittadella al quattordicesimo minuto occhio Posavec mi raccomando occhio e chiaretti potavec grandissimo grandissimo dai dai carlos mi tira carlos cosa fai non è mai rigore e poi va giù anche niente non è successo niente arbitro stiamo tranquilli dai cosa cazzo fai cosa cazzo fai aiaialo nessun volo embalo tira embalo ma l'ha buttato giù no 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 niente niente allora quello su embalo non era rigore ma quello su nesteroski si ha colpito il pieno di nesteroski boh niente va bene così ragazzi continuiamo così ha munito bellusci strano dai embalo girati tira cioce patra il portiere dai item corri item fai tutto da solo guarda cioce largo bella palla ti prego qualcuno perché perché non c'è mai nessuno bravo embalo bravissimo così però dovevi passare la buona corri cioce ma non era fuori gioco dai non era mai fuori gioco mai via palla via occhio a destra che passa è strisolo roger mamma mia quanto abbia rischiato qua abbia rischiato perché se qualcuno la toccava quella palla bella con i rispoli di là no perché è strossato così c'era cioce da solo sul secondo palo occhio perché un 2 contro 2 attenti meno male calcio d'amolo raga stiamo soffrendo un po' troppo un po' troppo dai embalo guarda nestroski dall'altra parte guarda rispoli dagliela cioce cosa cioce non capisci che esiste il fuorigioco nel calcio no ultima linea difensori c'era dall'altra parte l'uomo dall'altra parte fuorigioco no non ci arrivi no cosa stracazzo fai ma porta te la sussisto e tira no la palla è lì attenti come cazzo si fa 1 a 0 cittadella al 44esimo minuto meritato devo ammetterlo perché ci ha creduto di più ci ha creduto di più giusto così adesso bagnano i militari gli spogliatoi davvero caricati per questo secondo tempo perché non possiamo prendere gol così due contro uno entrambi girati dall'altra parte no 1 a 0 cittadella dai fai un cross che manca poco mettila mettete ma perché perché sti 1 a 2 messi a cazzo perché finisce il primo tempo 1 a 0 cittadella cittadella è una partita che vince a tutti i costi davvero non so cosa dire spero che il mister sappia caricarli bene per il secondo tempo perché così non vanno non possiamo sciupare quest'occasione comincia la ripresa nessun cambio ancora ma secondo me Embalo è uno dei dei predestinati ad uscire prossimamente però al più presto occhio occhio subito mamma mia dopo 20 secondi e viene già rischiato arriva prima struna ma aspetta un attimo alza la testa non si bisogna che la butti fuori sempre ogni tanto si ma non sempre cittadella indemoniato palermo spento completamente meno male il mister ha chiamato coronato grazie per avermi ascoltato spero fuori Embalo perché struna porca puntana fischi per gli aie lo giocheremo con l'attacco a 2 a questo punto con coronato alle spalle di Embalo e Nestorovski penso dai ciocev bella palla era regolare un po' meno forte un po' un po' meno forte era perfetta va bene dai raga dobbiamo pareggiarla prima possibile però bella va bene angolo angolo dai che uscita sta per entrare tra i cioschi volevo la gumia sinceramente fuori Embalo grazie per il coro è uno dei cori che amo di più item sei mancino vai sul sinistro e metti da dentro occhio ma dai hanno ciccato tutti tira 2 a 0 cittadella dai raga mi ha segnato strizzolo dai non possiamo prendersi gol posa vex posa vex ma cosa respingi così centralmente cosa fai 2 a 0 chiudiamo qua la reaction dai ciò dai preghiamoci proviamo a riaprirla raga all'esame non puoi fare sti cross coronato mamma mia mamma mia che tiro che ha fatto dai bellucci cosa cazzo occhio non far fallo che sei ammonito stai fermo occhio meno male meno male raga attacchiamo però non prendiamo l'altro chiaretti lo so che sarai cattivo però struno è grosso stai attento dai ragazzi non mollate dai ragazzi non mollate dai all'altra parte bella ciò giocco hai il traikovski c'è un buon coccino dai traikovski dai ciò c'è dai la larga metti la larga perché ciò perché perché prelucito nella sua riccia settebrini palla regoverata per un attimo da ciò che poi s'andormenta attenzione ancora salvi palla sul destro salvi super goal il più bello della serata che chiude la partita il cittadella vola sul 3 al 0 grande gol 3 a 0 cittadella quando ho visto che i due giocatori non si sono capiti ciò c'è l'altro forse era traikovski che da quando è entrato non è combinato con una giusta si traikovski e ciò c'è che invece di andare insieme sul pallone sperano che uno ci vada l'altro e cosa fanno non ci vanno non la lascialo là bravi coglioni ma qui finisce la partita il cittadella spanca il barbera vince 3 a 0 partita maiuscola della squadra di venturato 3 a 0 cittadella davvero forse in certi casi non serve un parole per descrivere ma sono incazzato per il modo in cui abbiamo affrontato questa partita è vero che questa serie B ci dimostra che nessuno può può comandarla nessuno è riuscito ancora a stare prima tra un po' in classifica per più di due giornate una serie B senza padrone che adesso vede il palma il pari prime a noi ci aspetta la sfida contro l'allia nella prossima in trasferta non facile sarà una serie B lunga e difficile dobbiamo sistemare qualcosa oggi in campo il palermo non si è completamente visto e non possiamo continuare a puntare su un giocatore come embolo per dirne uno tra i coschi non deve più toccar campo almeno per adesso finchè non hanno la testa e non capiscono che devono lottare per questa maglia tra i coschi è entrato e non fantasma oggi non ha giocato nessuno errori difensivi a centro campo in pochissimi li sono salvati davvero in pochissimi onore al cittadella perché ha dimostrato che questa serie B è molto difficile tutte possono vincere con tutte e sono sicuro che comunque andrà comunque sarà un gran campionato ma questo palermo alla fine deve arrivare là quindi vegli anni cambia rotta e spero che mister Tedino dia una sgrata alla squadra e spero che la squadra non stia pensando troppo ai problemi societari e pensi soltanto a giocare si concentri per questo obiettivo perché dobbiamo fare soltanto una cosa quest'anno vincere e tornare lì dove meritiamo di stare problemi societari e zamparini a parte a parte Grazie a tutti.